La prestazione perfetta, dal primo all'ultimo giocatore. Sì, siamo scesi molto bene in campo e siamo stati molto aggressivi e compatti e anche abbiamo creato belle occasioni per gol. Oggi io penso che abbiamo meritato questa vittoria perché si è visto che tutti abbiamo fame per vincere oggi e è meritato oggi. Oggi una vittoria meritatissima, ovviamente erano scene a cui i tifosi dell'Udinese erano abituati tempo fa, adesso finalmente ritrovano un pomeriggio di festa così, grazie anche alla vostra grande partita in campo. Sì, abbiamo detto che oggi poteva stare in un giusto momento vincere contro una grande squadra che è in classifica su. Anche abbiamo saputo che Napoli è una squadra molto forte, però quando tutti sono concentrati e tutti ci hanno voglia per vincere si vede cosa possiamo fare. Oggi veramente dal primo fino all'ultimo minuto siamo stati aggressivi, compatti e sì, abbiamo fatto la vita molto molto dura per Napoli. Oggi c'era Badu a uomo su Amsic, Bruno a uomo su Allan e tu avevi il compito molto difficile anche sia di smistare il gioco, interdire. Come ti trovi in questa nuova posizione? Bene, perché lì devi tanto fare coperture, perché io sapevo che Huygoin si muove dietro alla mia spalla e io ho provato sempre quando lui ha ricevuto la palla anche fare la copertura. In possesso di palla provavo sempre a cambiare gioco perché lì sono sempre stati aperti e i nostri esterni hanno molto bene attaccato la profondità e sì, abbiamo fatto oggi tutti bene. Al gol di Terro, quell'esultanza, che cosa significa? No, niente, io ho detto se facciamo gol facciamo questa esultanza. Anche lui ha fatto oggi una grande partita perché quasi corso sempre dietro Giorginio e meritavo che alla fine anche lui faceva i gol. Veramente complimenti a tutti i ragazzi. L'ultima te la chiedo sul pubblico. Ti piace anche aizzarlo, ho visto un paio di volte, a bello farli strillare, però oggi anche il pubblico è stato eccezionale. No, oggi il pubblico stava dietro di noi perché abbiamo avuto fasi molto difficili perché anche che non abbiamo giocato molto bene, però oggi io penso che anche i tifosi hanno visto che la voglia c'è e sicuramente se fai una prestazione così anche i tifosi sono molto felici, anche noi giocatori.